In riferimento allo studio epidemiologico realizzato dal CNR, il Comitato Nazionale di Ricerche di Pisa e relativo ai possibili effetti sulla salute della centrale Tireno Power di Vado Ligure, la Regione, evidenziando che si tratta di una situazione molto complessa in relazione alla quale è in corso un procedimento giudiziario, ha precisato che lo studio del CNR è stato consegnato agli uffici regionali nell'autunno scorso e immediatamente trasmesso all'Osservatorio Regionale Salute Ambiente e al relativo Comitato Scientifico di Valutazione. Sono stati riscontrati alcuni dati interessanti e altri da approfondire, in quanto per gli esperti regionali non sarebbero particolarmente congruenti. Riscontrata l'esigenza di accompagnare lo studio con valutazioni tecnico-scientifiche, gli organismi preposti, quindi l'Osservatorio Regionale e il Comitato Scientifico, si sono riservati di effettuare ulteriori approfondimenti. La Giunta Regionale attende entro la fine di maggio un report conclusivo da valutare con particolare attenzione. Grazie a tutti.